Buonasera a tutti, allora possiamo incominciare. Ci alziamo e facciamo una piccola preghiera. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Padre nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome, che al tuo regno sia fatta la tua volontà, come il cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male, Amen. Voi sapete che la preghiera è dialogo, dialogo con Dio. Il rischio è che diventi sempre un monologo, perché parliamo solo noi. Invece il dialogo vuol dire che parlano in due e si ascoltano. Ecco, proprio per questo, ora vogliamo ascoltare cosa ha da dirci il Signore attraverso il Vangelo di Giovanni. Anche perché, voi sapete che il titolo dell'incontro di questa sera è L'Evangelista Giovanni, quindi si parlerà soprattutto dell'Evangelista. Invece ora ascoltiamo un brano del Vangelo. Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli, abbiamo visto il Signore? Ma egli disse loro, se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. Otto giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse Pace a voi. Poi disse a Tommaso Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco e non essere incredulo, ma credente Gli rispose Tommaso Mio Signore e mio Dio Gesù gli disse Perché mi hai veduto, tu hai creduto Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto Gesù, in presenza dei suoi discepoli fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo il figlio di Dio e perché, credendo abbiate la vita nel suo nome Ecco, allora potete anche sedervi Ripeto, il tema è l'Evangelista Giovanni Proprio per questo la nostra relatrice si soffermerà giustamente non tanto sul contenuto anche se farà riferimento sul testo del Vangelo ma soprattutto sull'autore del quarto Vangelo Oltretutto, permettete una piccola introduzione perché l'ho già sentito oggi pomeriggio e quando noi facciamo riferimento all'autore cerchiamo l'autore siamo preoccupati soprattutto di sapere come si chiama Ora, nel passato questa preoccupazione è abbastanza relativa cioè nel senso che molte volte le opere vengono attribuite ad esempio a dei personaggi illustri perché così aveva più importanza il testo eccetera cioè il nome può essere anche a volte abbastanza relativo molte volte è più importante sapere invece al di là del nome chi è che ha scritto quel testo quando è che ha vissuto quali erano i problemi particolari che c'erano qual'era la cultura perché ha scritto questo Vangelo cioè recuperare la sua identità se volete al di là del nome che può essere anche relativo per cui potrebbe chiamarsi Giovanni potrebbe chiamarsi qualcosa d'altro eccetera eccetera d'accordo? ecco questo è importante perché altrimenti noi ci concentriamo sul nome e poi se si mette qualche dubbio sul nome sembra che crolli tutto ma in realtà non è la questione del nome anche se quando si può recuperare con esattezza un altro discorso ecco detto questo do subito la parola la parola a Valeria ha tanti titoli di merito ma il maggior titolo di merito è che una mia amica va bene ecco se permetti va bene perché siamo già amici da tanto tempo l'ho anche fatta lavorare già da tanto tempo allora ha insegnato ha insegnato ha insegnato introduzione alla teologia presso l'università cattolica ha insegnato teologia presso la scuola di teologia per laici presso l'istituto superiore di scienze religiose è stata direttrice del settimanale Diocesano la voce del popolo per un po' di tempo e ora ecco che in modo particolare potete vedere i suoi scritti in Brescia oggi perché tiene una rubrica significativa che soprattutto cerca di mettere direi in stretta relazione diciamo così la mentalità cristiana o addirittura il Vangelo e con l'attualità è una cosa molto significativa e difficile ecco quindi la ringraziamo e le do subito la parola che ha raccontato tutta la mia storia non ha detto che tutte queste attività sono ex che io adesso principalmente faccio la facente funzioni zia, nonna cuoca, assistente di famiglia comunque beh io ringrazio il mio passato perché mi ha dato possibilità sia di studiare sia di incontrare persone simpatiche che dopo mi paghi però ecco allora l'Evangelista Giovanni noi noi appunto come è stato ricordato adesso ci poniamo stasera la domanda che cosa possiamo dire della persona che ha scritto questo Vangelo che noi attribuiamo tradizionalmente a Giovanni pensando Giovanni uguale l'Apostolo il fratello di Giacomo colui che viene chiamato da Gesù alla sua sequela quando era pescatore in Galilea questa è la nostra persuasione tramandata con qualche ragione da tanti secoli ma il testo che noi abbiamo in mano ed è quello a cui ci riferiamo per scoprire qualcosa del suo autore perché non possiamo cercare altrove la caratteristica di questo scrittore se non all'interno di quello che ci ha lasciato bene questo testo ci pone alcuni punti di domanda che possono mettere in discussione questa diretta paternità fra il Vangelo e l'Apostolo Giovanni una cosa un primo dato molto banale questo testo risulta scritto in forma compiuta intorno all'anno 100 quindi verso la fine del primo secolo cristiano e voi potete comprendere che per quanto Giovanni l'Apostolo fosse molto giovane è difficile che verso l'anno 100 avesse la capacità la voglia direttamente di scrivere questo testo ma ancora di più il Vangelo prima di tutto lo scrittore non dice mai io che ero lì parla sempre descrivendo in terza persona cioè raccontando una scena che si svolge ma di cui lo scrittore non sembra direttamente partecipare più importante ancora è che questo testo è stato scritto è stato scritto in sono io che non funziono è il microfono allora questo testo è stato scritto in greco e in un greco molto coerente con la cultura e soprattutto il pensiero greco del tempo quindi c'è da chiedersi come in che modo l'apostolo Giovanni che era figlio del popolo della Galilea che è stato al seguito di Gesù per un po' di anni e poi impegnato nella predicazione parte insieme all'apostolo Pietro come abbia potuto maturare non solo la conoscenza della lingua greca tale da poter scrivere un testo di questo genere ma soprattutto il pensiero la conoscenza della cultura del pensiero ellenistico che era molto anche raffinato colto sono caratteristiche che risulta difficile coniugare con la figura di un uomo che viene da un percorso di vita così come ho cercato di accennare quindi noi abbiamo l'idea di uno scritto chiamiamolo così questo testo che noi abbiamo in mano di uno scritto che raccoglie ciò che il discepolo l'apostolo può aver raccontato ma che l'apostolo stesso non scrive direttamente quindi abbiamo la trascrizione di una testimonianza avete sentito nella conclusione dell'episodio del relativo a Tommaso che lo scrittore dice Gesù fece molti altri segni questi sono stati scritti perché voi crediate quindi questo è lo scopo del redattore evangelico raccogliere una testimonianza perché non vada perduta la testimonianza originaria degli eventi affinché altri possano credere e accedere quindi alla vita in Gesù detto questo allora noi che cosa possiamo dire un po' più dettagliatamente riguardo a questo autore così come emerge dallo scritto possiamo dire ad esempio che è una persona che oltre a conoscere il mondo ellenistico greco però è ben informata anche sulla tradizione giudaica quindi sul ritmo sul ritmo sulle usanze sul linguaggio tipico della palestina del tempo di Gesù quindi chi scrive scrive in un mondo greco ma porta con sé la conoscenza di un tempo di un'epoca che ormai non c'è più e chi scrive sta scrivendo sta mostrando un approccio profondo vasto dell'identità di Gesù cioè la persona che sta scrivendo mette sul testo una testimonianza di chi ha colto con intensità con lucidità con veramente con articolazione raffinata chi sia Gesù chi sia Gesù in se stesso e in relazione al padre chi sia Gesù e quale fosse la natura della sua missione quindi noi abbiamo questa identità di un Gesù che viene presentato con una forza enorme da una persona che dimostra di essere stata in contatto con lui e che dà corpo a ciò che poi lo scrittore fisicamente va scrivendo a questo aggiungo una notazione particolare il Vangelo di Giovanni è costituito da 21 capitoli quello che noi abbiamo letto stasera il Vangelo relativo a Tommaso è il ventesimo capitolo dove voi avete sentito chiaramente che c'è una conclusione quindi il Vangelo nella sua prima stesura finiva lì era la conclusione lo scrivente diceva questi segni sono stati scritti perché voi crediate tuttavia a breve distanza è stato aggiunto un altro capitolo che ricorderete riguarda la pesca sul lago quando vedono Gesù sulla spiaggia dove mangiano insieme dove Gesù poi chiede a Pietro Pietro mi ami tu più di costoro per tre volte allora perché questa doppia conclusione la prima che abbiamo sentito esplicita la finalità del Vangelo che vuole essere un percorso nella fede la seconda conclusione quella che voi magari riprendendo poi in mano il Vangelo leggerete al capitolo ventunesimo vuole mira a due cose fondamentali la prima è richiamare tutta la comunità credente al compito primaziale di guida di riferimento che è Pietro vuole ricordare che la chiesa nasce seguendo la testimonianza di Pietro come il primo tra gli apostoli il secondo viene ad bravo capito il secondo intento è più sfumato ma si comprende è che Pietro è già morto quando viene scritto questo capitolo perché si dice lì che Gesù a Pietro dice tu quando eri giovane andavi facevi quello che volevi quando sarei vecchio ti porteranno dove non vuoi andare e lì in pratica si annuncia si ricorda che Pietro è già morto difatti verso la fine del primo secolo Pietro è morto già da alcuni decenni ma si aggiunge anche una nota particolare sembra che in quell'epoca circolasse l'idea che un altro discepolo non sarebbe mai morto quello che noi in teoria potremmo pensare l'apostolo Giovanni ma in realtà specifica il Vangelo Gesù non ha detto che non sarebbe mai morto ma che sarebbe rimasto fino a un certo tipo di compimento in sintesi questo capitolo il ventunesimo che vuole confermare la comunità nel seguire le indicazioni di Pietro è anche la notizia che la generazione apostolica è finita cioè che Pietro e Giovanni mettiamo così sono già morti quindi questo testo è ciò che viene consegnato alla fede delle generazioni successive qui allora entriamo un po' più nel vivo nel Vangelo di Giovanni noi troviamo ripetutamente un'espressione che non si trova in nessun altro testo il discepolo che Gesù amava secondo la nostra tradizione siamo abituati da sempre i dipinti l'hanno sempre rappresentato così noi abbiamo sempre detto il discepolo che Gesù amava è Giovanni il giovane Giovanni colui che appoggia il capo sul petto di Gesù nell'ultima cena colui che è presente alla croce abbiamo fatto subito questa sintesi il Vangelo di Giovanni il discepolo che Gesù amava è Giovanni e quindi lì siamo ma io qui devo riportare alcune note critiche diciamo volete mettere a posto questi micro no no va benissimo allora le pensano tutte allora questo ci deve portare a qualche punto di domanda non è così semplice né così ovvio dire che il discepolo che Gesù amava fosse questo Giovanni perché dal testo emergono alcuni dati primo quando si parla della passione di Gesù quando viene catturato quando viene portato alla casa del sommo sacerdote questo discepolo che Gesù amava entra con lui nella casa del sommo sacerdote quindi vuol dire che ha un lascia passare perché gli altri sono rimasti fuori non solo quando è entrato torna indietro parla i servi perché facciano entrare anche Pietro allora questo fa intravedere che questo discepolo che Gesù amava fosse una personalità di rilievo di spicco conosciuto nel sommo dal sommo sacerdote e dalla sua casa quindi non uno qualsiasi ma un personaggio forse della classe sacerdotale che aveva accesso diciamo ai livelli più alti della gerarchia religiosa di Israele di Gerusalemme allora chi è questo personaggio per adesso noi diciamo è una persona che gode di conoscenze che è riconosciuta come prestigiosa e che a un certo punto sembra non appartenere al gruppo dei dodici perché perché è ben difficile che Giovanni appunto pescatore proveniente da una zona della Galilea potesse avere ai livelli così alti di incontro con le autorità religiose è piuttosto curioso e piuttosto anche poco plausibile diciamo detto questo anche si deve notare che in nessun altro testo del Nuovo Testamento nei Vangeli e o altrove si dice che Gesù abbia avuto un legame particolare nei confronti dell'Apostolo Giovanni non compare mai in nessun altro ambiente della vita cristiana nei testi non c'è Giovanni l'Apostolo è importante fa sempre parte del gruppetto che partecipa in prima persona agli eventi riguardanti la vita di Gesù sul monte della trasfigurazione nel Gezzemani Pietro Giacomo e Giovanni ma nessun altro in nessun altro passaggio si legge che Gesù abbia avuto un'attenzione particolare nei confronti di Giovanni quindi questo discepolo che Gesù amava era Giovanni quel Giovanni che noi conosciamo proveniente dalla Galilea non è detto quindi non è detto che possa essersi semplicemente possa essere semplicemente identificato Giovanni l'Apostolo con questa persona che Gesù amava è presente quest'uomo il discepolo che Gesù amava in tutti i passaggi della vita di Gesù ma in realtà noi non sappiamo chi sia possiamo dire è Giovanni l'Apostolo è molto incerto sembra più probabile la risposta che non sia Giovanni l'Apostolo in ogni caso la testimonianza di questo discepolo quello che Gesù amava è all'origine anche di questo testo e che non sia Giovanni sembra essere provato anche ripeto da quell'ultimo capitolo che vi citavo prima quando sul lago di Galilea dopo la Pasqua diciamo quando Gesù è già stato in mezzo a loro vanno a pescare quando non pescano niente il Vangelo fa l'elenco di chi c'era c'era Pietro c'erano i figli di Zebedeo quindi Giacomo Giovanni e altri due discepoli quando compare la figura sulla riva lo scrittore dice il discepolo che Gesù amava disse è il Signore avrebbe potuto dire dato che era presente il figlio di Zebedeo Giovanni avrebbe potuto dire Giovanni dice è il Signore invece no dice il discepolo che Gesù amava quindi sembra sottolineare ancora di più che ci sia una differenza fra l'Apostolo a cui noi tradizionalmente attribuiamo il Vangelo e anche l'attributo del discepolo che Gesù amava e questo discepolo che in realtà qualcuno ha cercato di ricostruire chi possa essere sono state fatte delle ipotesi ma in realtà noi non lo sappiamo chi sia allora detto questo in ogni caso sia chi sia questo discepolo che Gesù amava come come si dimostra cosa rivela di sé colui che sta all'origine di questo testo ripeto noi stiamo parlando di un testimone degli eventi originari che ha trasmesso la propria testimonianza e che il redattore fisico lo scrittore ha scritto quindi c'è ci sono gli eventi relativi a Gesù c'è chi partecipe direttamente e che poi testimonia nel tempo e in ultimo c'è chi scrive perché non vada perduto appunto questa memoria originale quindi di per sé lo scrittore manuale è soltanto uno che raccoglie la testimonianza allora chi è all'origine della testimonianza che fa nascere questo Vangelo ha comunque chiunque sia sia Giovanni l'apostolo che egli amava o un anonimo di cui noi non sappiamo il nome ha alcune caratteristiche la prima è che conosce con profondità l'identità di Gesù l'ha vissuto direttamente l'ha sperimentato può parlarne come di un evento che l'ha coinvolto in prima persona sa dire di Gesù con profondità come chi l'ha frequentato chi è stato con lui chi ha avuto modo di sentire la sua parola di vedere i suoi gesti seconda caratteristica è persona che ha vissuto a Gerusalemme conosce la città conosce il Tempio e le usanze relative alla tradizione ebraica e i riti del Tempio le feste tipiche del mondo giudaico del tempo quindi questo significa che questa persona che ha vissuto a Gerusalemme conosce com'era e come si viveva a Gerusalemme ha conosciuto Gesù in quel preciso contesto storico vuol dire che è stato là prima del 70 dopo Cristo perché la data è così certa perché nel 70 come già voi sapete Gerusalemme viene distrutta da Tito e dalle armate romane viene distrutto anche il Tempio di cui rimane quel famoso muro che ancora oggi viene venerato dagli ebrei quello che noi chiamiamo il muro del pianto che altro non è che un basamento delle fondamenta dell'antico Tempio allora chi parla in modo con cognizione di causa di come vivevano e cosa facevano quali erano i riti degli ebrei li conosceva perché era stato là perché li ha vissuti direttamente e in questo caso allora è qualcuno che ha visto i fatti ne dà testimonianza e porta la testimonianza di quel tempo fino ai suoi alla sua comunità quindi è presente questa persona mentre Gesù predica nel Tempio e sa di cosa parla è presente agli eventi della risurrezione fa parte dei testimoni quindi originari ma di tutto questo stando che appunto noi dell'autore del Vangelo possiamo dire quello che ha scritto fisicamente ci curiamo poco ma di chi sta all'origine quindi della testimonianza originaria da dove viene questa testimonianza noi possiamo dire questo che fosse Giovanni l'Apostolo o il discepolo che Gesù amava ammesso che siano due persone e probabilmente erano due persone adesso io naturalmente non posso dare per certo quello che certissimo non è è comunque l'uno l'altro persona che è stata con Gesù e ha vissuto con lui quindi rimane un caposaldo questo è un Vangelo testimoniale è un testo nato da una testimonianza diretta di una persona che è stata là negli eventi di cui si sta parlando e che ha capito la portata degli eventi che stava vivendo a questo punto allora possiamo considerare alcune caratteristiche cioè voi sapete che i testi evangelici non nascono semplicemente con un intento biografico cioè scriviamo la storia di Gesù nascono all'interno di una comunità tutti e quattro i Vangeli non solo questo e esprimono non solo l'identità di Gesù che cosa si crede di Gesù che cosa ha fatto cosa ha detto ma scrivono in modo che questo racconto risulti incisivo significativo per la comunità concreta in cui si va a calare quindi esprime anche delle sensibilità particolari tenendo conto di alcuni eventi allora in che contesto si costruisce questo Vangelo che cosa tiene presente mentre mentre racconta la vita di Gesù e quello che gli quello che gli compete in primo luogo abbiamo la precisazione ripetuta molte volte con forza che Giovanni il battezzatore non è il Messia perché questo Vangelo si preoccupa di dirlo già nel prologo testo che noi abbiamo venne un uomo mandato da Dio il suo nome era Giovanni non era lui la luce ma la luce doveva venire nel mondo e nel capitolo successivo quando Giovanni il battista per conto proprio si presenta come lo sposo si presenta come l'amico dello sposo non lo sposo ed è il battista che indicando Gesù dice ecco l'agnello di Dio quindi questo testo risponde a una necessità evidentemente circolavano ancora movimenti sia in Palestina sia fuori di persone che essendo state discepoli di Giovanni il battezzatore continuavano a ritenere Giovanni il Messia sto parlando di Giovanni il battezzatore battista in questo momento continuavano a ritenere che fosse il Messia allora il Vangelo che noi stiamo considerando stasera si preoccupa di dire più volte non era lui la luce la luce dove veniva nel mondo ma non era Giovanni il battezzatore quindi una rettifica un secondo dato è il rapporto fra la comunità in cui nasce questo Vangelo la comunità cristiana e il mondo giudaico noi abbiamo come dire ripensando ai fatti di duemila anni fa abbiamo un po' semplificato la nostra idea è questa che prima ci fosse quello che noi chiamiamo l'Antico Testamento Israele tutto quello che attiene al mondo antico poi arriva Gesù e quindi là ci sono gli ebrei qui ci sono i cristiani in realtà il passaggio è un po' più complesso perché i discepoli di Gesù della prima ora della prima generazione sono tutte persone che provengono dalla fede ebraica sono tutti ebrei osservanti più o meno fedeli diciamo però vengono da questa matrice e queste persone accolgono Gesù come il compimento delle scritture lo acclamano come il messia a lungo atteso è finalmente arrivato quindi questa prima generazione si sente gente fedele all'ebraismo sono ebrei che hanno incontrato il messia atteso quindi perfettamente coerenti con la loro fede originaria ma andando e procedendo col tempo gli ebrei tradizionali quelli che non hanno accolto la presenza di Gesù come messia hanno cominciato a guardare i seguaci di Gesù quelli che noi diciamo i cristiani come bestemmiatori come eretici allora in questo testo del Vangelo che stiamo considerando c'è traccia di questo problema quando in pratica una persona deve decidere se rimanere legato agli ebrei all'ebraismo al giudeismo così come era concepito quindi rimanere membro della sinagoga diciamo così oppure aderire a Gesù sapendo che aderendo a Gesù avrebbe sarebbe stato allontanato dalla sua comunità di origine giudaica non è un caso che proprio in questi anni di fatti il giudeismo in una sorta di concilio che viene collocato nella località di Amnia abbia emanato un testo in cui sono comprese delle maledizioni e tra coloro che vengono maledetti maledetti siano gli eretici e i cristiani perché perché il rifiuto di questo messia che è Gesù è talmente forte che coloro che aderiscono a lui vengono considerati eretici e bestemmiatori quindi da allontanare con viva forza perché questo ve lo dico a proposito di questo vangelo perché in questo vangelo c'è una evidente traccia di questo problema cioè quando si deve scegliere se rimanere ancorati alla sinagoga quindi alla tradizione o accettare il rischio di aderire a Gesù l'evento che ce ne presenta quasi in forma scenica è la guarigione del cieco nato quando lo rielgerete se avrete voglia questo tale questo nato cieco viene guarito da Gesù e va alla sinagoga viene convocato e quest'uomo dice che è stato guarito da Gesù e i sacerdoti responsabili della sinagoga lo assalgono dicono ma come ti permetti tu che sei nato tutto nei peccati vieni a dire a noi questo e il cieco dice beh io so solo una cosa che prima ero cieco e adesso ci vedo e quello che mi ha fatto vedere è quel tale là e non so neanche come si chiama però è quella persona allora i capi mandano a chiamare i genitori di questo tale e gli dicono ma vostro figlio era veramente cieco alla nascita cioè si vuole smentire che ci sia stata questa guarigione i genitori però mettono le mani avanti e dicono alla sua età questo figlio si arrangi perché avevano paura di essere espulsi dalla sinagoga allora il cieco guarito viene cacciato dalla sinagoga incontra Gesù e professa la sua fede in lui vedete questo non è semplicemente un fatto rappresenta un'epoca in cui cacciati dalla sinagoga perché ritenuti bestemmiatori in quanto aderenti alla fede in Gesù i cristiani acquistano una identità che diventa autonoma rispetto alla tradizione ebraica in pratica è qui che si dividono le strade fra la tradizione ebraica che rimane in attesa del Messia e la tradizione che riconosce il compimento delle scritture in Gesù diventano due direzioni o l'una o l'altra quindi nel testo evangelico di Giovanni c'è questa esplicitazione quindi la forza di un'epoca storica e serve questo testo a rincuorare coloro che si sentivano cacciati dalle loro sinagoge maledetti dai loro vecchi compagni di religione per la loro fede in Gesù serve a rincuorarli e dire stiamo aderenti a colui che da ciechi che eravamo ci fa diventare vedenti anche a costo di essere cacciati da quelli che ci conoscevano da quelli che erano legati a noi anche se fossimo ripudiati dai nostri stessi genitori come succede al cieco nato un altro tratto che emerge da questo testo e stiamo sempre cercando di lavorare intorno a chi sia l'evangelista da cui nasce questo testo un altro tratto che è notevolmente importante comincia dal tipo di lingua di lingua e di linguaggio in cui è stato scritto questo testo sapete già e l'ho già ricordato che è scritto in greco quindi in un greco abbastanza fluente tipico dei maestri greci degli oratori gli oratori greci non solo ma chi scrive dimostra di conoscere adeguatamente il pensiero ellenistico voi sapete qui alla fine del primo secolo la Grecia ha alle spalle almeno cinque secoli di articolata filosofia sono già vissuti i grandi maestri e si sono già realizzate le grandi scuole filosofiche la persona che mette mano a questo vangelo conosce questo pensiero e usa il linguaggio tipico delle scuole filosofiche ma per parlare di Gesù come dire prende un linguaggio conosciuto e lo piega per dire una cosa totalmente nuova in particolare si deve tener conto che fra i vari movimenti filosofici religiosi in queste zone del Medio Oriente antico poi fino a Roma si è diffuso lo gnosticismo che parola che vuol dire che viene da gnosis conoscenza gli gnostici potevano avere varie sfaccettature ma in linea di massima erano persone a via di mezzo tra il filosofo e il credente diciamo che ritenevano che l'anima umana potesse essere illuminata dalla luce del divino come dire una specie di invasione dell'essere supremo che avrebbe portato quindi alla verità per i filosofi e questo ha molto a che fare col platonismo il neoplatonismo comunque l'ideale dell'ognostico era mirare a questa illuminazione grazie alla quale si entrava in comunione col divino l'autore di questo testo conosce queste cose e si preoccupa e usa queste parole ma con un'intonazione specifica molto particolare parla di luce di verità ma non come una realtà mistica e statica che viene da chissà quale evento sublime il testo dice la luce la verità la presenza di Dio sono in una persona ancora cito il prologo voi ricordate che dice in principio era il verbo il verbo era presso Dio il verbo era Dio in lui era la vita e la vita è la luce degli uomini sentite le parole i vocaboli sono quelli familiari alla tradizione gnostica ma a un certo punto dice il verbo si fece carne e noi abbiamo visto la sua gloria nella prima lettera di Giovanni che è di questo stesso ambiente dirà il verbo della vita ciò che noi abbiamo visto ciò che noi abbiamo toccato ciò che i nostri occhi hanno visto ciò che le nostre mani hanno toccato ossia il verbo della vita allora la cultura filosofica greca la cultura gnostica che parlava di concetti altissimi viene piegata come dire viene usata per dire invece un fatto concreto l'incontro con Dio secondo il Vangelo di Giovanni non solo il Vangelo di Giovanni ma specificamente in questo contesto avviene nell'incontro con una persona quindi non un umano che sale al cielo ma come dire il cielo che scende all'orizzonte umano quindi non una scalata verso lo spirito perfetto sublime ma lo spirito perfetto sublime che viene ad abitare nella tenda umana ed è lì che Dio si incontra Dio nessuno l'ha mai visto solo il figlio che è nel seno del padre lui ce l'ha fatto conoscere e conoscere qui vuol dire ce l'ha fatto incontrare ce l'ha fatto toccare con mano allora di questo testo noi possiamo dire varie cose non sto a commentare passo per passo ma è un testo estremamente significativo anche proprio per questo motivo è il tentativo di dire la fede cristiana la persona di Gesù chi sia Gesù nell'orizzonte della vita del mondo dei singoli attraverso un linguaggio nuovo che non viene da quello che già si conosceva ma dal mondo nuovo dal mondo che si va a incontrare andando in giro per il Medio Oriente antico quindi in Asia minore in Grecia è il tentativo di coniugare ciò che la storia ha consegnato cioè la persona di Gesù con il variare delle culture in fondo questo è lo sforzo che viene chiesto in ogni epoca nell'annuncio del Vangelo questi due grandi poli che non possono essere allontanati uno è l'aggancio forte irreversibile con la persona storica di Gesù cioè non si può parlare di cristianesimo senza tornare continuamente là là dove le cose sono avvenute là dove questa persona è stata toccata con mano quindi lì non ci da lì non ci si può scostare l'altro polo è il mondo che cambia nel mondo che cambia quell'evento deve essere raccontato in modo che possa essere compreso in modo che si possa anche nel nuovo mondo dire è vero là in quell'epoca in quel paese in quel momento là c'era qualcosa che noi cercavamo quindi i due fuochi l'ancoraggio all'evento storico da cui non ci si potrà mai scostare perché altrimenti non avrebbe nessun senso la fede cristiana la sempre si deve tornare e nello stesso tempo la sfida nel variare del mondo dei linguaggi delle culture vale anche per l'attualità quindi siamo in una comunità che parla greco pensa in greco tant'è che Giovanni lo scrittore chiamiamolo sempre Giovanni per comodità a volte si preoccupa di quando usa parole provenienti dall'aramaico o dall'ebraico si preoccupa di tradurle facevo oggi già l'esempio del Pilato quando esce dal tribunale per la gente che è lì che gli ha portato Gesù dice uscì nell'itostroto che è un portico lastricato dice l'uscì nel litostroto in ebraico gabbatà questo vuol dire che chi racconta lo sa che gli ebrei in Gerusalemme dicevano gabbatà però per la gente che è lì gabbatà non vuol dire niente quindi lo dice litostroto in ebraico gabbatà oppure fu crocifisso sul monte detto del cranio in ebraico golgota vedete sono i riferimenti concreti perché il golgota c'è la gabbatà nella casa di Pilato c'era ma bisogna spiegarlo a questa gente perché non conosce più l'ebraico quindi è una comunità che nasce su un argine nuovo come una sorta di spartiacque di confine dove bisogna tenere insieme le due polarità qualche caratteristica di questo Vangelo che ci dice sempre qualcosa del suo scrittore voi leggendolo vi renderete conto che in questo testo non si parla con una parola che è stata molto usata dai sinottici di regno di Dio ci sono pochissime pochissimi eventi miracolosi ma questi eventi non vengono mai in questo Vangelo mai chiamati miracoli vengono chiamati sempre segni che differenza c'è il miracolo lascia di stucco e sembra quasi che obblighi a credere il segno è offerto può essere sorprendente ma tu che lo vedi devi decidere se credere o no il segno suscita la libertà cioè la fede non può di sua natura essere obbligata Dio non costringe a credere propone dei segni perché tu creda è evidente ciò che accade con la risurrezione di Lazzaro Lazzaro quando muore molti giudei escono da Gerusalemme per andare da Marta e Maria a consolarle erano evidentemente personaggi conosciuti e in questa casa piena di gente arriva Gesù voi sapete che Gesù richiama Lazzaro dalla morte e il testo dice tra i presenti molti giudei credettero in lui altri tornati a Gerusalemme decisero di farlo morire di metterlo erano tutti e due presenti quindi il segno di sua natura è dato perché si scopra qualcosa senza obbligare bene in tutti questi segni Gesù non esprime soltanto non so la sua potenza esprime se stesso rivela manifesta fa toccare qualcosa di sé allora possiamo anche semplicemente dire alle nozze di Cana Gesù è il vino nuovo è l'acqua che disseta per la samaritana è la luce per il cieco nato è la vita per Lazzaro ma non concetti astratti concetti eventi concreti per cui si tocca con mano chi è questa persona a questo proposito allora si può vedere com'è interessante la dinamica con cui questo Vangelo presenta lo svolgimento dei fatti prendiamo il discorso e il capitolo dedicato al pane con la famosa cosiddetta moltiplicazione dei pani punto di partenza la gente ha fame chi ha fame chiede cibo Gesù offre il cibo e poi dice chi mangia di questo pane non morirà in eterno non come la manna che i vostri padri hanno mangiato e sono morti questo è il pane della vita questo io vi ho dato da mangiare questo pane ultimo io sono il pane della vita vedete il crescendo c'è un bisogno a cui Gesù risponde ma da lì man mano alza il livello il pane da mangiare la manna il pane del cielo il pane vivo io sono il pane vivo quindi dal pane in genere dal bisogno Gesù non trascura il bisogno concreto fino alla massima elevazione la scoperta di lui come pane che nutre per la vita eterna i segni dati da Gesù sono tutti di questo tipo le annoze di Cana Lazzaro è un percorso partendo dal bisogno che porta invece alle vette alte della manifestazione della professione di fede ma vedete non è una manifestazione fatta con proclami è una manifestazione fatta nel segno ora con questo io penso che considerando anche l'ora voglio fare solo un accenno a due passaggi particolari del Vangelo di Giovanni nel primo il Vangelo può essere diviso grossomodo in due parti la prima fino alla fine del capitolo dodicesimo che contiene i segni di cui vi ho detto la seconda dal tredicesimo fino agli eventi pasquali quindi fino alla fine contiene tutti i discorsi e sono tutti i discorsi ambientati nel contesto della cena Giovanni non dice che sia la cena pasquale è la cena dove c'è la lavanda dei piedi il discorso sul buon pastore e l'amarsi fraternamente quindi c'è in questi tra in questi discorsi ci sono due passaggi molto interessanti al capitolo 14 e 16 in cui Gesù parla del paraclito se io non vado al padre non verrà a voi il paraclito quando verrà il paraclito vi guiderà la verità tutta intera noi lo usiamo nella liturgia il termine paraclito però in italiano non vuol dire niente cioè che sostantivo è che aggettivo è ma paraclito è solo una traslitterazione dal greco se volessimo tradurlo quasi etimologicamente proprio pari pari potrebbe essere tradotto con colui che parla a favore di un altro paraclito uno che parla a favore io uso sempre questa immagine è l'avvocato difensore è colui che parla a favore di un altro l'avvocato difensore di chi noi spesso di prima battuta diciamo è il nostro avvocato difensore ebbene no nel testo è evidente che il paraclito è l'avvocato difensore della verità dell'identità di Gesù prenderà del mio e ve l'annuncerà vi guiderà la verità tutta intera vi preannuncerà le cose future quindi lo spirito santo paraclito è il dono dato alla chiesa perché non si discosti mai dalla verità dall'identità di Gesù perché non si alteri chi è lui quindi è l'avvocato difensore della vera persona di Gesù perché non venga mai venduta una cosa per un'altra l'azione del paraclito è questo di condurre alla vera fede alla fede che ha in Gesù la sua radice autentica il suo termine definitivo poi per trasposizione si può anche dire che lo spirito santo paraclito è anche nostro avvocato difensore perché perché appunto ci protegge dalle devianze e conduce alla verità tutta intera quindi non permette che la chiesa si imbarchi per sentieri percorsi che portano lontano da Gesù quindi mentre difende l'identità di Gesù il paraclito difende la fede dei credenti questo dice Giovanni e la sua comunità perché perché l'autenticità della fede la correttezza nel presentare Gesù può essere spesso tradita pensate anche ai nostri giorni quante volte alla gente piace la figura di Gesù in genere credenti perché perché è un grande maestro morale perché è stato coerente perché ha chiesto la giustizia soccorso i poveri piace ma questo ma questo non è il Gesù dei Vangeli questa è l'immagine di Gesù che a me a noi alla cultura contemporanea piace io sono svegliati tutti hai visto spero di non averli fatti addormentare prima quindi l'identità di Gesù può essere sempre anacquata perché perché magari è più facile credere a un Gesù buono che soccorre i poveri piuttosto di credere a un Gesù morto e risorto è più facile credere a un Gesù buon samaritano che a colui che dice non so chi ripude la che dice a un fratello pazzo deve essere condannato oppure chi guarda una donna desiderandola già commesso adulterio con lei queste cose danno più fastidio e allora la tendenza già presente al tempo di Giovanni di questo Vangelo è quella come dire di anacquare di addomesticare un po' la figura di Gesù lo spirito santo paraclito è quello che invece richiama alla severità dell'identità di Gesù bene concludo concludo citando proprio il testo di Tommaso che è stato relativo al Vangelo di Tommaso che è stato detto poco fa noi di solito pensiamo a Tommaso come l'apostolo che dubita quello che dice provare per credere o toccare con mano e lo diciamo ancora anche adesso devo toccare con mano in realtà l'apostolo Tommaso in questo contesto non è l'emblema del non credente è la rappresentazione di tutti coloro che da lì in poi verranno quindi ognuno di noi è quel Tommaso Tommaso non c'è quando viene sperimentata la Pasqua come noi non ci siamo è l'assente è lontano come noi siamo lontani e noi come Tommaso siamo quelli che torniamo e ci dicono è risorto abbiamo visto il Signore e noi come Tommaso diciamo datemi le prove ma ti rendi conto di quello che dici come è possibile ah io non posso credere una cosa così siamo noi siamo noi quindi non Tommaso in se stesso come incredulo ma ogni persona che anche lungo tutta la storia del tempo verrà sfidata da questo annuncio allora Gesù si presenta a Tommaso e lo invita a toccare a mettere la mano Tommaso avete sentito non tocca ma proclama soltanto mio Signore e mio Dio che è una della professione di fede più alta del Nuovo Testamento nei Vangeli scusate allora cos'è questo Tommaso siamo noi che non c'eravamo nei tempi in cui le cose sono accadute che riceviamo la testimonianza e che incontriamo questo Gesù non direttamente per poter stringere con le nostre mani le sue vesti le sue braccia noi riceviamo questo libro questo testo quello che viene a noi attraverso questa parola è il Gesù che si presenta a Tommaso e perché esattamente come ha scritto l'Evangelista dice questo è stato scritto perché voi crediate e in lui abbiate la vita questo è lo scopo del Vangelo e allora quel Tommaso non è l'emblema di chi dubita del non credente dello scettico è l'immagine del destinatario di ogni tempo che riceve l'annuncio evangelico e resiste ma per vincere questa resistenza non vengono offerti miracoli viene offerto un libro che è questo grazie innanzitutto ringraziamo Valeria adesso abbiamo un po' di tempo per sollevare eventuali domande dubbi problemi magari per stanare per stanare ulteriormente Valeria da alcuni aspetti che ha preferito lasciar perdere così che ecco adesso abbiamo questa bella possibilità eh sì con calma eh certo giustamente Don Don Davide dice ecco vi lascio cinque minuti un momento adesso intanto potete contarla su dopo mezzo minuto dice ecco pronti chi è che deve dire qualcosa ecco adesso ho già imparato anch'io più o meno sape fare così e intanto che voi ci pensate perché il tempo è prezioso poi Valeria deve andare anche a casa c'è qui la nipote che l'aspetta forse è più la pago a ore per quello ah beh certo allora certo proprio per questo ripeto intanto voi ci pensate mi veniva in mente questa cosa nel periodo della mia vita in cui avevo un po' più di tempo per studiare e leggere mi ricordo che c'era stato qualcuno che aveva fatto questa ipotesi a proposito del discepolo che Gesù amava cioè il discepolo che Gesù amava in realtà non sarebbe nient'altro che il discepolo che legge e cioè in pratica noi che oggi leggiamo no che non abbiamo partecipato direttamente però possiamo mettere il nostro nome quindi volutamente il discepolo che Gesù amava non è nominato perché ognuno che appunto si avvicina a Gesù grazie alla sua testimonianza può ammetterci il proprio nome non l'avevo mai sentito grazie ma secondo te può avere dal punto di vista della critica testuale no la vedo un po' dura però dal punto di vista della lettura diciamo sapienziale che è lo scopo poi del Vangelo che è quello di entrare nella vita delle persone può essere ineccepibile ma lei che idea che parte di chi è che tu la ipotesi l'avrà fatta ma io non posso farmi prima di tutto io non sono una biblista nel senso stretto della parola cioè ho lavorato su per dovere e mi è sempre piaciuto molto questo testo merita molta attenzione ci sono diverse ipotesi io non posso decidere questa o quella personalmente preferisco pensare a questo discepolo che Gesù amava come uno che era nel cerchio di Gesù che aveva una bella amicizia qualcuno ipotizza che possa essere quel Giovanni Marco che poi diventa compagno per un certo periodo di Paolo e poi anche di Pietro durante i suoi viaggi a cui si riferisce anche forse il secondo Vangelo non lo so cioè io non mi propongo di risolvere quello che di per sé non può ricevere risposta o perlomeno che non è stata trovata da chi ha studiato ben più di me quindi la mia io sono piuttosto propensa a credere che non sia Giovanni l'Apostolo quello che Gesù il discepolo che Gesù amava che siano due figure distinte però mi piace anche pensare che possano essere in contatto una con l'altra cioè che Giovanni l'Apostolo che secondo la tradizione poi si era stabilito a Efeso dopo un primo periodo di missionario anche con Pietro come viene raccontato negli Atti degli Apostoli possa essere come dire in contatto se sono due tra queste due persone da cui nasca poi nasce la testimonianza evangelica io non per fare come dire una cosa accomodaticcia però la vedrei potrebbe rispondere anche ad alcune obiezioni sia sul ruolo del discepolo che Gesù amava che sembra diverso da Giovanni però sia il fatto che negli anni successivi cominciando dai primi padri della generazione subapostolica questo testo è stato attribuito a Giovanni quindi magari si trovavano insieme nella stessa casa sì su questo tema è molto intrigante quindi no la domanda che mi veniva spontanea è quella di chiedermi come mai il redattore perché adesso abbiamo capito che c'è un apostolo c'è un discepolo e questo discepolo probabilmente è quello che appunto viene definito che Gesù amava e poi c'è chi raccoglie la testimonianza dell'uno che poi si fa portatore anche quella dell'altro probabilmente proprio per conoscersi perché si conoscevi si sono conosciuti come mai usa questa espressione avrebbe potuto chiamarlo con un nome il fatto di scrivere in greco di avere una cultura greca ellenistica gli esegeti che hanno lavorato su questi testi da questa prospettiva il fatto di usare questo appellativo così complesso diciamo così o inusuale avrà pure ci sarà un qualche confronto che consente di entrare nel meccanismo e capire il perché perché qui evidentemente abbiamo a che fare con uno che è un personaggio che è un personaggio tradignone tradignone tra una cultura che è quella del del culto giudaico quindi del tempio e tuttavia è un uomo che invece partecipe di una cultura insomma è un po' un anticipatore dell'apostolo delle genti non mi pare di poter capire ecco immagini di questo tipo però questa definizione che è singolare incuriosisce ma da quello da quello che qualcuno dice cioè non tanto il mio parere perché in questo caso non ha nessuna rilevanza può essere una ipotesi che chi sta scrivendo questo testo raccoglie la testimonianza di uno che non vuol dire il proprio nome si autocensura diciamo e fa scrivere del suo legame con Gesù non volendo citare il proprio nome più di tanto è una specie di nascondimento per modestia per non voler apparire in primo piano quindi questo è quanto io ho letto più di tanto non saprei dirle perché non vedo tracce per lo meno che io conosca da quello che ho letto che possano portare ad altre spiegazioni è un punto di domanda che su questo Vangelo è chiaro che finché non c'è stata la possibilità o la volontà di un'analisi storico-critica di ad esempio di storia della redazione storia delle forme quindi che scienza almeno diciamo soltanto degli ultimi due secoli diciamo un secolo e mezzo non c'era nessun problema veniva letto il testo così com'era e quindi Giovanni era l'apostolo che Gesù amava e spiega anche perché noi siamo sempre stati certi che fosse il dodicesimo apostolo che stava lì vicino a Gesù nell'ultima cena è stato l'insorgere dell'analisi storico-critica delle forme della ricerca linguistica anche in questo senso la storia delle redazioni che ha messo in luce questi tipi di incongruenze forse stavamo meglio prima non so io vorrei dire anche il Giovanni che è ai piedi della croce che Giovanni è evangelista o l'altro Giovanni ai piedi della croce non si dice che sia Giovanni c'era il discepolo che Gesù amava era Giovanni era un altro siamo come sentiamo cosa dice il nostro parroco Don Renato ci dica la sua ma io le do le do ragione vedete queste serate possono essere come ho già sperimentato anche oggi qualche sguardo un po' smarrito nella stessa conferenza fatta nel pomeriggio queste serate servono per dare diciamo una qualche tipo di prospettiva ragionata dei test però quando voi andate a casa stasera state tranquillamente a pensare quello che pensavate prima che ai piedi della croce c'era Giovanni e che c'è stato questo affidamento reciproco di Maria all'Apostolo e viceversa perché per la pratica e la vita della fede queste sono la prossima volta ti do un contributo eh si stava discutendo oggi del valore del ragionare in merito il ragionare su questi testi è affascinante nel senso che lei non tanto per me è bello cioè poi il Vangelo di Giovanni dal punto di vista anche narrativo e di una ricchezza incredibile ha delle strutture che si incrociano ok non vi interessa è bello è bello anche il fatto di qualche volta di avere in mano il senso dell'espressione poi nel e questo dipende anche dal tipo di mente di mentalità che si ha c'è qualcuno ad esempio a me piace molto mi dà molta soddisfazione non mi indebolisce nella fede è già debole di per sé quindi non è che posso ma lo trovo non mi toglie niente del credere se invece una persona non è tanto portata queste cose quando le ha sentite si rende conto di una complessità però voi a seconda della categoria in cui vi sentite più vicini quando leggerete questo testo lo sentirete proclamare lo sentirete come un testo rivolto a voi e basta è la chiesa che vi offre questo corpo di gesù cioè tanto quanto il sacramento dell'eucaristia questo è il segno dato a voi per la vita del mondo ed è quello più evidente perché l'eucaristia vedete se noi non avessimo la parola non capiremmo cos'è il gesto la celebrazione eucaristica ha bisogno di essere illuminata col racconto della passione nella notte in cui fu tradito da dove viene questo racconto da questo testo che leggiamo noi questo la chiesa ci ha consegnato e che dà ragione di tutti i gesti ecclesiali quando ognuno di voi ognuno di noi si troverà a vivere la propria sfida della fede la fede non è mai ferma è arrivata al punto come dire di stabilità assoluta cammina sempre a seconda anche dell'età che si vivono del temperamento che si è ma ci sarà questo testo che viene incontro con la sua forza e fa vivere chi gradisce o si sente come dire sollecitato anche all'analisi critica sa che c'è ci sono i pascoli dell'analisi critica chi dice io me lo godo così se lo goda così ecco non toglie niente al credere quindi lei stasera quando va a casa se guarda un'immagine dove c'è Maria e l'altro dice ecco Maria e Giovanni finita lì ecco l'autorizzo c'era ancora qualche domanda ne è ancora un'altra e Lucia volevo dirle riguardo i segni e i miracoli i segni per me sono un po' forse per me si capisce meglio perché miracolo non sembra una cosa astratta non so se mi spiego ecco segni perché siamo liberi di credere non credere si può considerarlo la parola miracolo dinamis punta molto sulla straordinarietà cioè del fatto che colpisce una cosa che secondo noi non poteva accadere Giovanni non mira alla straordinarietà anche se è chiaro che questi gesti sono gesti dirompenti mira al fatto è una sfida che vi viene messa davanti con lo scopo uno solo pronunciati sulla persona che ha generato questo segno quindi non mira alla straordinarietà del gesto mira alla reazione che questo può suscitare è un segno è un segno e così possiamo concludere qui se permettete vorrei riprendere quello che ha detto qui verso la fine Valeria e cioè praticamente ciò che è normativo per la nostra fede che diventa importante chi è determinante è il testo è il testo che è ispirato e noi appunto ascoltando quel testo sappiamo che Dio ci parla il Signore ci parla attraverso questo testo lo spirito lo rende attuale attenti bene che non è diciamo così ispirato chi sia l'autore quello non c'entra è il testo al di là del nome dell'autore quindi questo secondo me è importante e cioè non è così o è molto se potessimo risolvere questo problema tanto meglio però non è così determinante poter dire esattamente chi è stato scriverlo perché quello che è ispirato secondo diciamo la fede cristiana è il testo così come è giunto a noi e noi lo accogliamo come la parola di Dio dopo che certamente dica riferimento comunque a qualcuno che è stato con Gesù che è vissuto con Gesù che ha fatto esperienza con Gesù e che ha scoperto in lui colui che è la vita la verità eccetera questo ovviamente è importante però ripeto al di là del poter dire con esattezza il nome di questo tale dico bene bene allora sappiate che l'ultima volta della Lucia perché non vi ho dato la benedizione questa sera allora ve la do volentieri va bene per l'intercessione della Beata Vergine Maria e di tutti i Santi vi benedica Dio onnipotente padre e figlio e spirito santo grazie ancora Valeria buonanotte a tutti grazie grazie a voi grazie a tutti